Sucurente, rinfresco, offerto dall'Avis, Leonardo Ceppino. E infatti, sono turisti della domenica questi. I ciclisti della domenica? Sì! Ah, ecco. Vai! Sì, sì. Ciò si potrebbe anche vedere lì. Ah, infatti, possiamo vedere lì là. Sì, d'attenzione. E' un fattacco. E' un rarmo vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.